Nel pieno della crisi climatica globale, e dopo anni di proposte e discussioni parlamentari, la tutela dell'ambiente è entrata ufficialmente nella Costituzione italiana. La Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge che modifica due articoli costituzionali, l'articolo 9 e l'articolo 41, al fine di tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli animali e gli ecosistemi, anche e soprattutto nell'interesse delle future generazioni. Il testo ha ottenuto 468 voti favorevoli, uno contrario e sia stenuti. La riforma, che era stata già presentata ed approvata dal Senato, è entrata subito in vigore. Questa modifica costituzionale è un primo importantissimo passo che armonizza il nostro sistema con i principi formulati sia a livello europeo che internazionale. La custodia e la salvaguardia del creato è un tema che sta molto a cuore anche a noi cristiani. Sì, perché le ragioni cristiane assolute e precise per l'ecologia sono ragioni inseparabili dai principi biblici. La Bibbia infatti ci informa che la terra è stata creata da Dio e al Signore è piaciuto darla in custodia all'uomo, come dono affidato alla sua responsabilità. In Genesi al capitolo 2, al verso 25, è scritto, Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Di fronte alla bellezza del creato, l'uomo è voluto da Dio non come dominatore o sfruttatore, ma come colui che deve prendersi cura del giardino del mondo. Coltivare e custodire sono due verbi che scandiscono la responsabilità dell'uomo nei confronti del creato, il che si traduce, nel rispetto della natura, in una prospettiva di ecologia integrale. Infine la Bibbia esalta lo splendore della natura che si può osservare nella bellezza di un'alba o di un tramonto, nel cielo stellato, nella maestosità del mare o nel verde lussureggiante di un bosco. Nell'esaltare la bellezza del creato, allo stesso tempo viene esaltata la bellezza e la grandezza di Dio. Su questo punto, piuttosto che aggiungere altro, preferisco questa mattina far parlare la Bibbia, perché la Bibbia ci mostra in un Salmo un canto straordinario che esalta il creato e allo stesso tempo esalta la grandezza di Dio. Questo Salmo è il Salmo 8. Ve lo leggo così come è scritto integralmente. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu che hai posto la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo? Perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri del mare. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Dio vi benedica e buona giornata. Signore, 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 signore.